Questi sono i miei amici e quest'oggi dovranno sopravvivere alle mie torture Ragazzi, avrete dieci minuti di tempo... Ma cosa stai facendo? Avrete dieci minuti di tempo per equipaggiarvi al meglio e dopo di che io cercherò di uccidervi in tutti i modi con i comandi Buona fortuna Ok, grazie, io rimango qua fermo, tanto non mi ucciderei mai Ok Ma serve anche il cibo, cavolo Marco Qual è il vostro piano? Sentiamo Io non ho un piano Prendere legna, ottenere miliardi di buckets e non andare nel nether perché sennò l'acqua non mi può salvare L'acqua sarà mia amica in questa sfida Ok, va bene, mi piace Sei un ragazzo corretto comunque, Marco Dovrete anche farvi ovviamente le armature in ferro Eh sì, dieci minuti Faccio tutto tranne che nel metto, sappilo che non mi piace Va bene, Marco, sarai il primo a morire Ragazzi, mancano otto minuti Ma come? Ma hai iniziato da 26 minuti? Ma sei iniziato da due minuti, oh? Ma non è vero Otto minuti Basta lamentarsi, sennò vi ammazzo prima Non è vero, Kendal Senti te, è il mio video, vi ammazzo quando voglio, ok? Oh, bello, bello, bello Sappiate che non appena morirete, il video finirà Va bene, ma mi hai proprio convinto Eh, quindi cercate magari di farlo durare più di otto minuti, dai Ah, ok, va bene, va bene, va bene, non ti preoccupare Io sto seguendo soltanto Marci Marci, che cosa stai facendo? No, non ti devi preoccupare di me Ti sei fatto già la crafting Non ti preoccupare di me Allora, ragazzi, stanno qui, io sto facendo tutte le tecniche del mondo sto facendo, stanno tranquilli Ma c'è anche l'Iron Golem Bravo Ma sì, l'Iron Golem è proprio quello Guarda com'è morto Marci Ma come si fa? Marci, sei solo Ma è alto 2, alto 2, devi fare l'alto 3 Eh, ma era sotto No, tranquillo, bro, hai sbagliato Mark, è stato un piacere giocare con te, resta soltanto Marci No, ma che senso? Ma veramente? No, si è fatto c'era apposta perché c'è i lavori, palese Ma c'è i lavori in casa, ragazzi, dovete sapere, non si sente Io quindi, cosa? Mark, non ti posso dare un'altra vita, le regole del video sono quelle, punto Ormai sei morto No, 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 non ho toccato l'Iron Golem, un secondo Facciamo così, facciamo così, Mark Puoi aiutarmi a uccidere Marci con i comandi Ma no, ma così non esiste sta cosa Lo faremo Scusami, io adesso non faccio parte del male, Marci Esatto, esatto Siete veramente orribili Uno e l'altro Con uno scarsone con te deve durare almeno 8 minuti il video, Marci Ma se sei morto Adesso dico una cosa Dilla, dilla Non verrà censurata, dilla pure No, non deve essere censurata Allora, Marco, insulta sempre, fate sempre così Oh, quello, truffali, truffali Vito in città è lui il truffatore E qui è morto dopo mezzo secondo Io non parlerei più fossi in te Ti togli quella testa però che sennò ti rende immortale Marci, a quanto so è sceso il watch time in questo momento del video Adesso stavo riparlando io e risalito Ah, pazzesco, va bene, va bene È incredibile L'ho proprio predetto Ho detto proprio Ora muori Ma non l'hai fatto apposta No, non l'ho fatto apposta Perché pensavo che fossi giù di uno bene Marci, mancano esattamente due minuti Sto lasciando come un matto sto lasciando Hai tutto? Hai lo scudo? Hai il secchio d'acqua? Tutto quanto? Un attimo, un attimo Che qua la situazione è critica Non è che... Hai capito? Oh, oh, oh Io ho anche visto una cosa molto interessante Che potrebbe piacerti Se vuoi ti aiuto e te lo dico C'è un diamante proprio alla tua destra Davvero? Sì, dietro questa colonna Ma che andamato? Ma tu non puoi aiutarlo così? E ma che me ne faccio il diamante? Ma che cavolo te ne frega? Tanto lo dobbiamo uccidere in tutti i modi Ma poi con tutte le versioni che potevamo farle In quella con cui il diamante lo trova praticamente a starnutendo Sì, ma non è vero Guarda che ne spona uno alla volta Guarda che sono difficili da trovare Sono difficili adesso dagli diamanti Ma infatti di un diamante cosa me ne dovrei fare ragazzi? Guarda, se ti butti giù ne troverai degli altri Guarda che caverna enorme che c'è qua Allora, intanto mi faccio questo E mi faccio una spada in pietra Perché non ho abbastanza ferro Mark, sai già come ucciderlo? Sì, sì, assolutamente Che cosa pensi di utilizzare? Ma credo che utilizzerò semplicemente un effetto per farlo volare E lui cadrà come una peracotta Quindi per me è molto, molto easy Interessante Sì, sì, sì Marci, già il comando è pronto Sai già che cosa ti servirà allora, Marci? Ok, hai ragione Oh, guarda che bravo a fare l'MLG Hai visto che sei già Ma lui è forte Ne sa, eh Ne sa, ne sa Ne sa Ne sa a pacchi Allenati allora C'hai due minuti Sì, così prendo danno poi Così il video finisce Oh Guarda che bravo, hai visto? Eh sì, eh Guarda che ti inseguono i mostri, eh Hai ragione, infatti ho visto Ah, a proposito Mi stavo dimenticando No, no Ho messo difficoltà hard Così ti fanno molto più danno Ah, giusto Ho un comando legit quello Mi piace Sì, sì, sì Quello per forza Dove sono salito, ragazzi Devo capire da dove sono salito No, l'ho salito di là Ho sbagliato zona, raga Bene, Marci Il tempo è scaduto Com'è scaduto? È già scaduto? È già scaduto? Sì, sì, sì Di notte sto uscendo Adesso possiamo ucciderlo in qualsiasi modo Va bene Inizia te, Kendall Inizia tu Fai gli onori di casa Ok Adesso mi fa le vite Guarda Oh, jump boost Calma Dai, scontato Scontato in realtà Non prenderà molto danno in questo modo No, non è vero Però si fa lo più alto, Marco Facciamo così Cambiamo per esempio il tempo in Thunder Bello, Thunder Io c'ho un bellissimo oggetto Che fa questo Se riesco a prenderlo Maledetto Ecco Ecco I fulmini dell'inferno Sì Ok, ok Sì, non riesco a prenderlo però, Marco Ah, sta scappando? Eh, sì, sta scappando Vedi, mi hai detto Ah, no, ci sta, ci sta 8 cuori alla volta Non lo so, vai tu Allora, è sott'acqua Pensa a qualcosa per ucciderlo sott'acqua Ok Io ce l'ho, io ce l'ho, io ce l'ho Vai pure tu, vai pure tu No, no, no Sta già scappando Sta già scappando Perché so cosa dovete fare Volete mettermi qualcosa sopra Così rimango soffocato Bello Oh, cosa hai fatto? Gli hai dato speed? Grande, grande, così Ma è quella velocissima Oh mio Dio Non capisce nulla Sì, infatti, fai attenzione Ma in realtà io ci capisco Potresti prendere dando, eh Sì Vai, Marci, tu devi giocare Come se questo fosse il tuo mondo di Minecraft Ma mi avete detto Noi possiamo fare tutto, no? Potremmo avere Mark, attenzione Pioggia di pozioni Uuuu Guarda che questi ti fanno male, eh Fai attenzione, Marci Aia Ok Oh, guarda, le stai evitando tutte Un portento Ma scusa, tutto, 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 tutto Si può fare È vero? Puoi fare tu Ah, t'hanno fatto un po' di male, eh Puoi fare tutto, tutto, tutto Oh, bellissimo Ottimo, Mark Ottimo Ottima idea Magari c'è qualche problema nel rompere i blocchi da adesso, il buon Marci Potrebbe Però io lo ripresento, magari Potrebbe, certo Così come potrebbe anche avere difficoltà contro il Wither Ragione, ragione Aiuto Ti do una mano, Marci Vai Grande Guarda quanto tanto prende No, no, aspetta Non riesco neanche più a seguirlo Dove cavolo è andato? Dove è? Eh, ma dov'è? Eccolo Ma da Marci, vediamo È qua sotto, è qua sotto, è qua sotto Tranquillo Guarda quanto va veloce Ma me l'avete tolta Dai, era bella Sei pronto? Sei pronto, Marci? Sono pronto, vai No, non ti dirò che cosa faccio Vai, dimmi cosa fai Ma no, che non te lo dico Dai, dai Ah, ah, ah Cosa pensare? Fosti stupido? No, no, per carità Non lo penserei mai, eh Sta tranquillo Assolutamente Sta tranquillo, eh Vai, puoi uscire anche da là se vuoi No, no, ma se vuoi restare Se vuoi restare là No, 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 ci mancherebbe No, no, io sto bene Ma tu non ti devi preoccupare Sto proprio bene qua, guarda Oh, 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 Marci Oh mio Dio Oh mio Dio Spero che tu sia bravo con l'MLG Water Beh, magari c'è un bucket d'acqua Sì, ma così veloce come faccio? Lo vedo Oh C'è, basta Si è salvato Guarda quanti mob Pazzesco Ragazzi, sapete cos'è il problema? Non è non farcela È che di sera Nella savana I colori sono tutti impastati Quindi non si capisce niente È proprio vero Quello è un problema enorme E vediamo invece come te la cavi con i creeper, caro Marci Ok Ok Oh, è bravo, eh Eh, no, è bravo È bravo il ragazzo a sopravvivere Sì, sì, sì Ok, Marci, direi da dietro Eh, non lo so Non lo so se se ne accorge Infatti Sei tornato in caverna Molto coraggioso Voglio un diamante Diamante, 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 diamante Diamante per il bomba da Marci Mark, Mark, sei pronto? Sì? A cosa? Sai già che cosa dobbiamo fare, no? Eh, non lo so Io sto spiegando a te Perché non so che comando faremo Stai a guardare, va bene? Vai, ti guardo Sei pronto? Non sa che riprendere il diamante Quindi stai attento Fai veloce Io ne dubito Oh! No! Ho salvato! E mi ha trovato un altro! Ancora, ancora, che è ancora? Non è possibile Cosa ho fatto? Aspetta, facciamo così Oh, ma è un campione È un campione Adesso non potete farmi scendere Eh, tu devi trovare il modo Devi trovare il modo di scappare Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, non ce la fai Eh, non ce la fai, Marci Dai, cadere il void Tieni lì, tieni lì Che faccio una TNT Aspetta, eh Grande, grande, grande Riempi di TNT Riempi di TNT Oh, è veloce il ragazzo, eh È velocissimo Non ha più blocchi Non ha più blocchi Vediamo, credo che coordinate sono 519, meno 39 174, ok Devi dare una mossa, Mark Eh, cavolo, sto facendo in fretta Arrivo, eh Ho finito i blocchi Tranquillo, è ancora qua Tranquillo, è ancora qua Non ti preoccupare Ok, TNT Ok Addio Addio, madame Ci siamo? C'è secondo te un modo per salvarsi? Eh, non lo so Io gli do dieci secondi Dieci No, Kendall È così troppo, muore Kendall, sto scappando Eh, è impossibile vivere qua così, eh Io credo che riuscirei a sopravvivere Uno di questi giorni vi farò fare a voi una sfida dove proverete a uccidermi Sì, mi piacerebbe Ah, bene, è un contrario Mi piace Mark, comunque te sei una ciofeca Come hai fatto a morire nei primi due minuti? No, 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 in realtà è grazie a me di dare a tenerti cosa vuoi, eh, campione Sarà Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto Sono morti entrambi A me piacerebbe farlo ancora anche con Steff e Fere E soprattutto Vorrei essere io Il sopravvissuto Dal vostro Kendall è tutto Noi ci vediamo domani con un prossimo video Ciao Ciao Ciao